16.000 controlli in due giorni condotti da circa 50 agenti di Trenitalia provenienti anche da altre regioni e concentrati su 77 treni regionali del Piemonte, ritenuti più sensibili al fenomeno dell'evasione. La lotta ai furbetti che Trenitalia regionale sta conducendo in tutta Italia inizia a dare i primi positivi risultati con un recupero di risorse di cui beneficeranno tutti i passeggeri. Il bilancio dei primi due giorni di lavoro del Team Nazionale di Controllori, che questa settimana affianca i colleghi piemontesi nella nuova e sistematica attività di controllo dei biglietti, registra l'allontanamento, prima di salire a bordo, di oltre 800 persone non in regola con il biglietto, 333 ticket venduti per un incasso di oltre 4.000 euro e verbali di accertamento per circa 28.000 euro. L'evasione rilevata è prossima al 7,5%. I controlli, resi veloci e efficaci della presenza contemporanea di più agenti, sono effettuati sui treni e nelle fasce orarie considerate a maggior rischio evasione ed hanno interessato tutte le linee piemontesi da Torino in direzione Genova, Cuneo, Novara, Milano e Susa. Le attività si sono svolte anche nelle stazioni di Torino-Portanuova e Torino-Lingotto, dove, durante le fasi di salita, sono state allontanate oltre 800 persone prive di biglietto. I pool costituiti da più persone acquistano anche una funzione dissuasiva nei confronti di possibili reazioni aggressive. Ciò nonostante, sono stati 12 i casi in cui è stato chiesto l'intervento della Polfer. Questo nuovo approccio al fenomeno dell'evasione, con il richiamo al rispetto delle regole e una maggiore capillarità nei controlli, sta determinando un recupero di risorse che sosterrà, tra l'altro, il percorso di ammodernamento e potenziamento della flotta regionale, su cui Trenitalia è impegnata anche attraverso una gara europea per la fornitura di 500 nuovi treni, pari a un investimento di oltre 4,5 miliardi.